19 novembre 1917, nasce Indira Gandhi. Unica figlia del primo ministro indiano Nehru, prende il nome dal marito Feroze Gandhi, il quale non era in alcun modo imparentato con il Mahatma Gandhi. Il 19 gennaio 1966, Indira Gandhi diventa primo ministro. È la prima donna a rivestire un ruolo pubblico così strategico nella storia indiana. All'inizio degli anni Ottanta, Indira Gandhi decide di espugnare con l'esercito il Tempio d'Oro d'Amritsar, dove si era rifugiato un gruppo di irriducibili del gruppo estremista Sikh, che lotta per l'indipendenza del Punjab indiano dopo una sommossa. Nel 1984, Indira viene uccisa in un attentato da due guardie del corpo di etnia Sikh. La stessa sorte, per mano delle tigri tamil, toccherà al suo figlio e successore Rajiv. È una data che merita qualche riflessione, perché noi nel mondo occidentale riteniamo di vivere un'epoca di pace, ma non è così. Come ha ricordato recentemente Papa Francesco, i nostri tempi sono tempi di guerra. Non c'è mai stato nel mondo un numero di guerre così elevate. Per questo la nascita di un personaggio come Indira Gandhi può essere un momento di raccoglimento e anche una dichiarazione di intenti per lavorare affinché ci siano nel mondo. Sempre meno guerre e sempre più pace. La pace è un grande valore e merita di essere considerato la priorità. Signor Primo Ministro, lei aveva una grande ammirazione per Giovanna d'Arco, perché, come ha scritto suo padre, aveva saputo impugnare le armi e combattere contro gli inglesi. Trent'anni fa l'India era ancora sotto il dominio inglese. Oggi, dopo tanto tempo, ammira ancora Giovanna d'Arco. Veramente adesso non ci sono per me neroi neroine. Sì, è vero, ammiravo Giovanna d'Arco. La sua lotta mi sembrava importante, vista soprattutto la situazione indiana. Ma riflettendo, anche adesso mi sembra che la storia di Giovanna d'Arco sia sempre molto attuale. Voglio dire, con tutti gli attacchi contro di me, dopo tutto quello che ho fatto per l'India. Già da bambina ammiravo soprattutto quanti avevano lottato per la libertà del proprio paese, perché l'atmosfera dell'India era permeata di questo spirito. Personaggi come Garibaldi, insomma, tutti coloro che in qualche modo si sono battuti per la libertà. L'essere donna costituisce un ostacolo per la sua attività di primo ministro? No, non credo. Forse eccetto per una sola cosa, che comunque non so se dipende dal fatto che sono donna o dal mio carattere. Credo che ognuno di noi abbia qualcosa di maschile e di femminile. Io penso che forse la situazione attuale in India si sia creata perché io ero troppo mite. Non ho nulla contro la critica e l'opposizione, ma quando certa gente comincia a mentire, cerca di falsificare non solo l'immagine di una persona, la mia in questo caso, ma anche l'immagine di un intero paese, riflettendosi sull'unità stessa del paese. Beh, ecco, se io non avessi tollerato tutto questo, forse ora non avrei dovuto adottare misure così drastiche. Indira Gandhi, 57 anni, da 9 a capo del governo del paese più difficile del mondo. L'India, 600 milioni di abitanti, 14 milioni di bambini in più ogni anno, un paese scosso da flagelli annuali, un caleidoscopio di razze, religioni, partiti, 42 caste principali, 14 lingue ufficiali, centinaia di dialetti, 600 mila villaggi sparsi su un territorio enorme. Da quattro mesi e mezzo, dalla notte fra il 25 e il 26 giugno scorso, Indira governa con un regime di stato di emergenza. Sono state sospese alcune libertà civili. La stampa è sottoposta a censura. Centinaia di esponenti dell'opposizione sono imprigionati. Indira Gandhi sostiene di aver assunto i pieni poteri per sventare un complotto reazionario. Gli avversari parlano di dittatura. Resta la straordinaria vicenda di una donna con compiti in mani, con decisioni difficilissime, corteggiata o dostacolata dalle superpotenze, osannata e criticata all'interno del suo paese. Indira Gandhi adesso è nell'occhio del ciclone. Coraggiosa o arrogante? Sconfitta o vincitrice? Si è detto che nella notte del 25 giugno Indira ha dato un colpo mortale alla più grande democrazia nel secondo paese del mondo come popolazione. Un atto di forza o un atto di debolezza?